cari amici di visione tv benvenuti a un nostro nuovo approfondimento stiamo obiettivamente vivendo un tornante molto particolare della storia si susseguono in ogni angolo della terra dei tentativi di reprimere il dissenso in alcuni casi con provvedimenti al di fuori della costituzione delle leggi in altri con la violenza bruta come in colombia insomma forse il caso di non continuare a sottovalutare i tanti segnali perché a furia di sottovalutare rischiamo di risvegliarci dentro un incubo compiuto di questo e di tanto altro parleremo oggi con il magistrato angelo giorgiani salve dottor giorgiani grazie per essere tornato da noi grazie a te di avermi invitato continuerò a darti del tu come te lo davo prima della 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 diretta e ti voglio ringraziare perché in questo i momenti proprio sto registrando che gli spazi di quelli che erano i famosi liberi informatori tali si definiscono invece ci sono molto spesso appiattiti alle notizie del sistema e le notizie che vengono dal nostro fronte vengono assolutamente boicottate come è successo con l'ultima denuncia presentata nei confronti del governo italiano questo è grave perché vuol dire che il fronte dei liberi informatori al di là delle chiacchiere si riduce notevolmente ecco allora diamoci del tuo anche a microfoni accesi ecco hai cominciato tu perché io sennò insomma sono rispettoso diciamo delle forme quindi se tu me lo consenti ti do del tuo anch'io bene e allora diciamo chiaramente che si vive un clima molto pericoloso quello che tu segnali è vero tanti operatori dell'informazione si stanno adeguando al pensiero unico ma io non voglio spezzare una lancia in favore di questi pavidi però obiettivamente il clima è pesante ci vuole coraggio per cercare di resistere perché obiettivamente il clima si fa ogni giorno più incandescente voi avete presentato una denuncia facciamola vedere ecco prego la regia di mandare in sovrimpressione questa denuncia eccola qua se si può fare scorrere giù tribunale dell'aio 11 paesi del mondo firmano la denuncia contro i rispettivi governi ci puoi spiegare angelo che di che iniziativa si tratta dove è stata presentata questa denuncia da chi e diciamo per iniziativa di quali associazioni allora l'iniziativa sta l'iniziativa e io l'ho sottoscritto io come presidente dell'eretico e come segretario generale dell'organizzazione mondiale per la vita sostanzialmente essendo presenti in tanti paesi del mondo abbiamo registrato in moltissimi paesi la stessa narrazione drammatica che stiamo vivendo in italia con limitazione delle libertà fondamentali con danni irreversibili all'economia con la negazione del diritto ai rapporti familiari col diritto alla propria fede religiosa al diritto al lavoro e abbiamo quindi riferimento ad alcune ipotesi e alcune ipotesi indicato dei crimini contro l'umanità e chiesto al procuratore internazionale di presso la corte dell'aia di svolgere dell'indagine di accertare se come noi sosteniamo sono stati consumati dei crimini e da chi sono stati consumati la denuncia è stata presentata una prima denuncia da me come segretario generale dell'omv generale per tanti paesi del mondo successivamente in altri paesi del mondo sempre delle irresponsabili dell'omv nei nei paesi compatti nei paesi latinoamericani ma anche cifro la spagna e altri paesi in europa e fuori dell'europa hanno presentato denuncia all'aia sempre per crimini sostanzialmente i crimini sono gli stessi perché la narrazione nel mondo è omogenea angelo è lodevole questa vostra iniziativa si spera anche che la magistratura prima o poi o quella nazionale o quella sovranazionale ci aiuti a riconquistare i nostri diritti con l'inganno negati dal governo italiano ma non solo dal governo italiano però obiettivamente i segni non vanno in questa direzione ad esempio di oggi la notizia del sequestro di quella torteria di quella donna rosanna di chi basso che aveva continuato a esercitare il proprio diritto a lavorare è stata chiusa sequestrata con un dispiegamento eccezionale di forze oggi abbiamo visto nelle immagini insomma veramente sembravano molto strane molto particolari questo ha potuto avvenire però soltanto su un mandato su ordine della procura di ivrea ecco quindi i giudici che in teoria dovrebbero difendere i nostri diritti costituzionali in alcuni casi sembrano invece come dire sposare la narrazione del potere francesco tu tu giustamente fai riferimento a una procura la procura di ivrea che adotta un provvedimento io non conosco nel merito le documenti che hanno legittimato la richiesta di questo provvedimento al gip perché evidentemente ci sarà un provvedimento del gip che autorizzato questo sequestro io quello che so è che in effetti c'è un una protervia nel portare avanti misure che sono misure incostituzionali da parte non solo del nostro governo ma dagli altri governi devo dire con la franchezza che mi contraddistingue che da sportivo ho esultato a vedere una concentrazione di tante persone a milano in piazza il duomo consapevole che sicuramente non sarà come qualcuno sostiene un focolaio infatti lo dimostreranno un focolaio di trasmissione di infezioni però non registro altrettanta presenza nel momento stesso in cui si nega il diritto al lavoro altrettanta presenza nel momento stesso in cui bisognerebbe lamentarsi per la violazione per la riduzione delle libertà fondamentali è orripilante quello che si è visto ieri per esempio a fano dove un ragazzino appena diciottenne che si rifiutava di mantenere in classe la mascherina eh invocando i suoi diritti costituzionali e invocando i principi che vengono dalle norme internazionali è stato addirittura sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio questo è di una gravità inaudita e allora io dico giù le mani dai nostri figli giù le mani dai ragazzi e sta eh ma eh ribadisco francesco perché non voglio girare sul sull'argomento mh con la denuncia a cui fa tutto fai fatto tu di riferimento e la 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 prima denuncia segue a un'altra denuncia che avvocati dell'OMV avevano fatto in in Israele ma ieri abbiamo depositato un'ulteriore denuncia contro il governo italiano all'AIA nel silenzio assoluto non solamente dei media nazionale ma anche dei famosi liberi informatori delle famose televisioni su web che pubblicizzano o affermano la loro difesa dei valori fondamentali angelo a chi ti riferisci in termini chiari perché sennò sembra l'accusa molto generica cioè con chi ce l'hai ce l'ho con i liberi informatori che sono allora francesco 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 il problema di fondo che se io faccio delle affermazioni qua pare che voglio darti un vantaggio differenziale perché tu lo stai facendo rispetto ad altre televisioni ci sarà ci saranno ci sarà una sede in serato sentivo la mia giornalista silvia petrazzini tu sentivi che in diretta stavo mentre ci collegavamo stavo sentendo un audio che si lamenta proprio di questo allora quando completerò disegno ma io lo dicevo per ragioni contrarie proprio perché voglio difendere tutti i miei colleghi che fanno contro informazione non posso credere che loro non vogliono dare notizia di questa avvenuta denuncia e questo mi sembra strano ieri abbiamo andato non solamente agli organi quelli ufficiali e quelli del maestream ma l'abbiamo mandato a tutte le vittenti e tutte le radio tutti i liberi informatori non mi pare che al di là di qualche notizia web ho avuto ho avuto modo di riscontrare che ci sia traccia di questa di questa denuncia anzi qualcuno qualcuno ha fatto riferimento a una persona in particolare ha fatto riferimento a la notizia precedente di cui abbiamo parlato degli undici stati e l'ha camuffato mettendoci sopra la denuncia di un di un medico e c'è un'attività in questo momento pericolosa di di censura ma mentre prima la censura che noi davamo scontata veniva dal mainstream ora la censura avviene da quelli che dovrebbero essere i nostri amici inizia quindi inizia a ipotizzare che quanto prima magari saremo soggetti anche noi ci schieraranno apertamente e saremo soggetti anche noi al fuoco amico e se voi parliamo invece di questa nuova denuncia di ieri è stata completamente bene spiega ecco allora spiega che cosa c'è in questa denuncia qual è il merito cosa chiedete e qualcosa che quale tipo di meccanismo si può attivare adesso la premessa che noi abbiamo fatto in questa nuova la denuncia è che l'obbligo del vaccino il mantenimento del coprifuoco il passaporto vaccinale il pass vaccinale la vaccinazione dei medici del personale del comparto sanitario violano libertà fondamentali e diritti sanciti da carte internazionali e pertanto integrano dei comportamenti che potrebbero essere crimini contro l'umanità quindi abbiamo presentato questa nuova denuncia intanto chiedendo immediatamente che si che sia ordinata la sospensione e la somministrazione di questo vaccino in chiave obbligatoria o quasi obbligatoria perché di fatto è diventata obbligatoria per il comparto sanitario dato le sanzioni che ci sono per le persone che si sottraggono e abbiamo chiesto anche che la corte la corte di internazionale giustizio si pronunci sulla questione del coprifuoco perché nonostante già ci sia una pronuncia precedente che credo riguardi l'olanda in italia è stata ribadita nel decreto legge quindi si ignorano anche gli atti delle giurisdizioni internazionali e questo è pericoloso quindi angelo tu hai l'impressione che diciamo su un piano sovranazionale si possa intervenire per rimettere un po di ordine dentro questa situazione italiana che ormai sembra sfuggita di mano cioè i dpcm ormai hanno hanno assunto un potere sopraelevato rispetto al dettato costituzionale c'è normale tutto questo francesco non è normale e purtroppo purtroppo qua provvedimento mangia provvedimento e le limitazioni dei diritti fondamentali continuano a permanere e la gente sua sua fatta a questo stato di cose o secondo me non si rende conto che non stiamo parlando più di una transitorietà un'emergenza che dura da 15 mesi può essere definito un'emergenza e un'emergenza che dura da 15 mesi può negare il diritto al lavoro che sta mandando a carte 48 la nostra economia e non solo la nostra economia perché allora francesco se vogliamo chiamare le cose con nome e cognome dobbiamo cercare di capire quello che sta succedendo e qual è la strategia che c'è dietro io non ho paura di essere definito complottista perché sono un complottologo per 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 professione e allora è sotto gli occhi di tutti che gli errori i ritardi gli errori gli stessi ritardi gli stessi errori diagnostici errori terapeutici ci sono succeduti dappertutto nel mondo ma non ci dicevano le nostre persone anziane che dagli errori si imparava qua non si è imparato nulla assolutamente e anche la costruzione dei lockdown su presuppotti erronei o falsi come i pcr che sono inaffidabili o l'assunto che positivi asintomatici siano malati è una cosa che si è andata ripetendo nel mondo allora ci dobbiamo chiedere cosa c'è non è possibile che ci siano tante coincidenze nel mondo c'è una regia c'è una regia in parte ufficiale che quella dell'oms che tanti danni ha commesso ma al di là della regia dell'oms ci sono delle menti lucide le famose menti sopraffine che hanno scritto questa questo copione che in fase di recitazione in tutto il mondo e allora ci sono paesi in cui le reazioni sono la gente scende massicciamente in piazza ma ci sono paesi come tu sai ne parlevamo prima della diretta dove è iniziata una forte repressione delle manifestazioni sta avvenendo questo in colombia noi stiamo dando spazio sulla nostra piattaforma a quello che sta succedendo in colombia sta succedendo a formosa e anche di questo c'è traccia sulla piattaforma abbiamo sta sta succedendo in continua la dura repressione in in birmania dove addirittura scompaiono i ragazzi e da fonti ufficiali da documentazioni probanti da documentazioni fotografiche risulta che queste queste ragazze scompaiono molto spesso sono espiantati restituiti solo ai familiari nell'ipotesi in cui ammettono che le morti sono avvenute per causa accidentale c'è un in questo momento una un grave un grave deficit di 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 democrazia e anche le democrazie quelle che si definivano democrazie avanzate hanno pericolosamente limitato le le libertà e stiamo vivendo una dittatura capuffata da democrazia o peggio con una una dittatura legittimata da un consenso viziato delle persone che sono state plaggiate dalla dall'informazione unica che ha assistito il pensiero unico a proposito di colombia ecco ci arrivano immagini drammatiche da lì però il circuito mediatico non sta spiegando nulla poco nulla ci puoi dire tu che cosa succede perché protestano quali sono le rivendicazioni della piazza e che tipo di reazione ha messo in piedi il governo colombiano praticamente in colombia che cosa è successo c'erano già delle manifestazioni di protesta nei confronti delle delle restrizioni delle gravi restrizioni alle libertà c'erano delle proteste per le mascherine per i distanziamenti tutte le proteste che noi conosciamo che sono le proteste che abbiamo vissuto in italia in europa in altri paesi siamo là in una fase più avanzata perché praticamente il governo ha cercato di presentare il conto di tutte queste misure con una riforma fiscale una riforma fiscale che colpisce i soliti i soliti noti e quindi colpisce una classe che già indigente una classe la classe borghese che in sofferenza e rispetto a questo le le manifestazioni si sono moltiplicate nel paese ci sono delle immagini raccapriccianti perché il governo ha utilizzato l'uso delle armi ci sono filmati in cui si vedono eh motociclisti che passano e spadrano sui sui passanti inermi eh ferendole uccidendo non lo sappiamo eh il governo ammette quattro morti ma eh le le fonti le nostre fonti parlano numero certamente nettamente superiore di morti che cosa si sta profilando si sta profilando quello che era prevedibile si sta profilando quello che domani secondo uno drammatico schema eh verrà avanti in altri paesi cioè nel momento stesso in cui la gente si renderà conto perché fino a quando la la le persone hanno la pancia piena eh difficilmente protestano ma appena iniziano i morsi della fama appena iniziano a non sapere come eh sostenere la la propria famiglia eh e appena quindi iniziano ad aprire il loro cervello e a capire quello che veramente sta succedendo tutto questo sfocia in una una in una guerra civile e io dico e ribadisco dall'inizio di questa epidemia avevo reclamato particolare attenzione dallo Stato perché soprattutto nelle aree marginate del paese e soprattutto dove c'è ci sono problemi occupazionali e dove quindi la nostra economia langue nel sud il sud è diventato una polveriera perché rispetto allo Stato incapace e insufficiente è la mafia che sta correndo in soccorso alle alle piccole e medie imprese in difficoltà è chiaro che lo fa con lo spirito di chi sa che non faranno fronte agli agli onerosi interessi usurai e che comunque dovranno cedere le attività e quindi in tutto questo abbiamo un inquinamento del sistema economico del paese le 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 mafie rileveranno tante attività che utilizzeranno queste imprese per il riciclaggio dei dei capitali ma questo mette in discussione e mette a repentaglio un'intera economia perché quando le imprese mafiose entrano così massicciamente sul mercato e il loro utile è il riciclaggio di quelle risorse che è un costo che è un costo anche elevato loro non stanno sul mercato per perseguire come le altre imprese sane l'utile dell'impresa per loro già esistere e potere riciclare soldi è un utile quindi si possono permettere avendo tanti capitali di non avere il costo dei capitali che le imprese sane hanno e si possono permettere anche il lusso di non mirare a un profitto dato che il profitto è extra ed è quello che viene al riciclaggio questo rischia di danneggiare le nostre economie e intanto a tutto vantaggio oltre che delle imprese mafiose e dei capitali mafiosi a tutto vantaggio delle multinazionali che la chiusura il blocco del lavoro ha determinato anche una una riduzione del del prodotto interno lordo sta determinando una una serie di chiusure basta fare un giro per i centri delle delle varie città che hanno riaperto per vedere quante saracinesche sono rimaste abbassate e in questo modo è chiaro che cresce cresce il fabbisogno del paese che guarda ai mercati internazionali alle istituzioni finanziarie che limiteranno le sovranità popolari come è successo in grecia e quindi ancora una volta ci troveremo espropriate delle nostre risorse come fratelli e sorelle greche a tutto vantaggio dei soliti noti che sono quelli del di quell'elite finanziaria che gravita intorno all'ordine mondiale e così l'abbiamo detto e così diranno ancora una volta che sono complottista non abbiamo parlato i vaccini perché altrimenti sarei complottista no vax e per questo non non sono credibile vabbè noi conosciamo le tecniche del mainstream insomma non ci interessano le rispingiamo al mittente da magistrato ti voglio chiedere questo angelo noi sappiamo che esiste una norma del codice penale che punisce chi prova a cambiare diciamo l'ordinamento statale cioè a pervertire il sistema democratico e lo fa tramite l'utilizzo della forza adesso io non so come altro chiamare diciamo un sistema che utilizza il ministero dell'interno le diverse prefetture le forze armate per andare in giro a chiudere dei locali a mettere i sigilli diciamo a delle degli esercizi commerciali che chiedono soltanto di lavorare in osseguo al dettato costituzionale cioè possiamo dire che è stato ormai realizzate in alcuni casi chiaramente quella fattispecie penale che punisce chi utilizza la forza bruta per sovvertire l'ordine democratico qua intanto ci sono molte norme che sono andate in due solitudine che ci saremmo aspettati che in questa vicenda venissero applicate ancora non sono state applicate io mi auguro che anche i miei colleghi magistrati si sveglino da questo plagio che è diventato un plagio all'ampio spettro anche i magistrati come tutti i cittadini sentono i mezzi ufficiali di informazione e il pensiero unico viene veicolato in una maniera massiva e quindi conoscono solo la verità ufficiale rispetto a questa gestione pandemica devo dire di non enfatizzare neppure questo provvedimento perché perché a fronte di questo provvedimento ci sono anche altri provvedimenti giudiziari che per esempio hanno ritenuto dove sono stati fatti seguersi delle attività che non c'erano gli estremi profili di natura penale quindi ci sono dei giudici che di merito che si pronuncia in un senso ma ce ne sono tantissimi altri che si sono pronunziati a favore dei diritti e quindi affermando e ritenendo la dichiarazione di alcune di alcune libertà di alcuni diritti fondamentali ora siamo in una fase delicata perché ora praticamente rispetto ad alcune cose rispetto ai pass vaccinali rispetto alla vaccinazione del comparto sanità rispetto alle norme sulla libera circolazione oltre che le violazioni che ricordavamo delle carte costituzionali ci sono le violazioni a norme internazionali e i giudici possono fare un passo ulteriore su questo stiamo lavorando i giudici possono fare un passo ulteriore nel senso che mentre laddove ci sono presunte violazioni della carta costituzionale devono rimettere alla corte costituzionale quando si tratta invece di norme che sono in contrasto con principi comunitari recepiti e norme internazionali ratificate possono direttamente disapplicare la norma italiana e rispetto a questo si possono prefigurare per esempio i ricorsi d'urgenza e i giudici che rispetto a questioni alle eventuali questioni di costituzionalità dei provvedimenti legislativi o provvedimenti non amministrativi perché le possono applicare rispetto alle leggi che violano la costituzione possono comunque valutare se sono compatibili con le altre norme di carattere internazionale e in via di urgenza per esempio potrebbero anche sospendere gli effetti esecutivi di queste norme quindi ci sono ancora tanti spazi l'importante è dire che c'è uno stato di diritto e qualcuno sta violando le norme di uno stato di diritto che comunque il tempo è sempre calentuomo e la storia non perdona e quindi questi signori comunque saranno affidati al giudizio della storia ma saranno anche affidati al giudizio degli uomini perché in uno stato di diritto ci sono gli strumenti all'interno dello stato quelli giurisdizionali al di fuori dello stato quelle delle giurisdizioni internazionali quindi su questo dobbiamo contare dobbiamo contare su questo e soprattutto contare sulla consapevolezza delle persone che questo stato di cose può cambiare altrimenti subentra la rassegnazione e questo francesco è molto pericoloso ecco ti dico che noi continuiamo a credere nel diritto nella libertà però i segni si moltiplano ad esempio a noi apro una parentesi personale noi di ancora italia è stato vietato di manifestare pacificamente secondo le regole in veneto e in friuli che sono regioni tra l'altro in zona gialla con delle senza delle vere motivazioni mentre stanno manifestando un po tutti in italia dai lavoratori di alitalia abbiamo visto manifestazione a noi è stato vietato dal questore di pordenone da quello di treviso di organizzare diciamo un tavolo per manifestare un libero pensiero con delle motivazioni così un po' opinabili e a maggior ragione lo trovo grave al di là del partito nostro posso posso signora ti dico perché un partito c'è un sistema di potere che si è già blindato dentro il palazzo con tutti dentro il governo draghi che utilizzi le articolazioni del potere del governo c'è la polizia politica per vietare agli oppositori di sentire pacificamente di manifestare un pensiero non so io penso che per carità continuiamo ad avere fiducia però non so cosa c'è oltre questo anche prego francesco se io sono qua e sono con te non è un caso perché noi abbiamo un dialogo siamo sullo stesso fronte se sarò insieme a te insieme ad altri amici per cercare di avere uno strumento allargato di informazione non è un caso però tu sei una persona molto navigata e sai vivi le piazze vivi quello che succede sui marciapiedi ci sono movimenti che stanno girando somme impressionanti allora non confondiamo per oro tutto quello che luccica ci sono molti movimenti che sono pezzi del sistema che servono la solo a come un binario morto su cui innescare portare le portare la disperazione la le 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 aspirazioni dei 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 cittadini tu io qualche poche altre persone non facciamo parte di quel sistema noi la la resistenza civile la facciamo in maniera reale ma ribadisco ci sono delle televisioni che ora iniziano ad avere tanti soldi che iniziano ad avere la pubblicità dei come si chiama dei farmaci di 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 quant'altro e pubblicità e sponsorizzazioni che non conosciamo pienamente noi andiamo avanti francesco se non sbaglio continuiamo ad andare avanti con il volontariato mettiamo mano in tasca abbiamo qualche come si chiama qualche adesione qualche pochi euro che ci vengono dalla simpatia e dal sostegno dei dei nostri amici questa è questa macchina pandemica e e anche questo lo avevo detto all'inizio della pandemia in una in una in una rubrica che curavo che si chiamava il salotto di sparta con cui era ospite eh Nicola Gratteri in quel quel salotto avevamo paventato questi rischi che poi si sono verificati perché le indagini sono sono diventate esemplificative di quello che noi avevamo ipotizzato paventato per cui così come era successo in Irpinia io avevo detto proprio fatto riferimento all'Irpinia così come ha detto in Irpinia non vorrei che ci sono gli sciacalli della pandemia e abbiamo visto che anche in questa in questa in questa in questa occasione c'erano gli sciacalli che puntavano sul fatto che la pandemia durasse ci sono delle persone che guadagnano su questa pandemia eh ci sono imprese di fiducia su queste misure che vengono adottate dal governo sui DPI ma dobbiamo dirlo con grande onestà Francesco ci sono tanti sciacalli anche all'interno delle associazioni dei movimenti ci sono sciacalli che 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 cercano di lucrare sulla disperazione della gente ci sono professionisti che cercano di fare clienti e utilizzano molto spesso impropriamente la disperazione delle persone eh invitandole per esempio ad aderire ad iniziative giudiziarie che non hanno nessun ritorno utile per coloro che si tassano sia pure per per le cifre ragionevoli e convinti di poter risolvere i problemi dei propri della propria famiglia dei propri figli questo è drammatico lo sciacallaggio come avviene nelle grandi tragedie e in queste grandi tragedie c'è anche uno sciacallaggio che riguarda eh il le 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 imprese ufficiali che lavorano per lo Stato e per le istituzioni che riguardano le reti di informazioni che ritengo che hanno delle grandi reti informazioni che attingono ai contributi per divulgare il pensiero unico e anche le 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 televisioni gli organi di informazione dei pseudo movimenti che dovrebbero difendere i diritti dei cittadini quelli che sono contro il mainstream Angelo tu prima hai citato Gratteri che c'è stata molta polemica rispetto alla prefazione del libro che tu hai scritto scritta proprio da Gratteri poi a un certo punto sul Repubblica Gratteri ha detto sì ammetto insomma di avere sbagliato a scrivere questa prefazione ti ha deluso un po' questa precisazione del procuratore di Catanzaro? Io sono una persona navigata quindi distingue il fatto istituzionale al fatto personale Nicola Gratteri è mio amico oltre che essere un collega eh evidentemente ha sentito forte la pressione eh che veniva dai mezzi di informazione e non non ha detto di essersi pentito non ha mai manifestato il pentimento per avere scritto la la prefazione ha ha manifestato alcune sue perplessità anche lui eh precisando che contenuti per cui veniva accusato l'autore del libro quindi io gli autori libri e lui erano inesistenti ha mantenuto un una una posizione che certo eh sotto un certo profilo sicuramente mi ha deluso perché mi sarei siccome noi siamo io e lui siamo persone uomini di diritto conosciamo i nostri diritti costituzionali conosciamo i limiti della nostra attività e siccome non avevamo violato nessuna norma e avevamo esercitato il legittimo diritto che viene dalla Costituzione di esprimere la propria opinione era un certo un po' di delusione questo me lo ha me lo ha determinato sotto il profilo umano non l'esito di di alcuni passaggi non non sono stati in linea con con quello che mi aspettavo anche se comunque ribadisco lui in tutti i momenti e questo è quello che per cui mi denude lui ha acclarato che contenuti del del libro non erano quelli che qualche giornalista diceva a quell'ora a quel punto bisognava rivendicare io a posto suo avrei rivendicato con forza quello che ho fatto perché era praticamente legittimo quindi non c'era bisogno di manifestare qualche perplessità e e lui qualche perplessità l'ha manifestato l'hai sentito dopo la pubblicazione di quell'intervista sì ci siamo sentiti sia pure per messaggi e abbiamo chiarito le 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 nostre posizioni io sono una persona che tutti sanno anche mie amici e nicola ho sempre parlato chiaro parlato chiaro anche quando ora si fa gran clamore tu hai fatto anche una puntata sulla questione della dei dei magistrati sulla questione del sistema palamara ma dov'è la novità dov'è la novità io ne parlo da oltre dieci anni mi batto contro questo sistema io che sono stato il uno dei sei fondatori della corrente a cui fa riferimento palamara ho preso le distanze da quella corrente e dalle correnti e dall'associazione proprio per le ragioni che sono emerso dopo denunciando che era diventato un sistema di potere denunciando il fatto che il parlamentino dei magistrati era un parlamentino in cui si faceva politica che le associazioni che le correnti associazioni erano partiti veri e propri partiti politici ho denunciato che il sistema palamara quindi non era il sistema palamara però il sistema è l'associazione nazionale magistrati e ci sono video c'è un video che abbiamo fatto io e vittorio sgarbi su questa cosa e altri video precedenti ora vedo tante vergini incinta come dice un mio collega che restano che si sono stupite che manifestano stupore ma all'interno della magistratura era sotto gli occhi di tutti la grande colpa della magistratura è di non essersi ribellata la stragrande maggioranza dei colleghi sono persone oneste che fanno il loro lavoro e che sono distanti rispetto a questo sistema però hanno accettato questo sistema anche colleghi che erano che potevano aspirare legittimamente ad alcuni incarichi ci sono piegati per anziché reclamare i loro diritti si sono piegati alle associazioni quindi pietendole è una magistratura che ha in questi ultimi dieci anni anziché camminato a camminare con la schiena dritta ha camminato come cittadini e inginocchiata questa è la verità allora io sostengo e continuo a sostenerlo qualcuno diventamente lo chiede è necessaria una commissione parlamentare di inchiesta come era necessaria la commissione parlamentare di inchiesta sulla questione della gestione sanitaria che anche vittorio scarvi aveva sponsorizzato ora parla delle mie ingenuità io parlerei di alcune sue incoerenze ma comunque non voglio andare l'opera vittorio scarvi comunque un uomo che da una vita sta dentro il sistema per carità e pure ogni tanto c'è qualcosa di vero però insomma uno che ha così tanto spazio nei grandi media un motivo ci sarà senti angelo che idea ti sei fatto del caso amara a queste dichiarazioni diciamo questo presunto scontro fra procure che poi un'immagine che a me non piace quello scontro fra procure quale scontro qua c'è solo lo scontro è fra uomini lo scontro bisogna capire quali sono cioè aiutaci a capire quali sono le fazioni in lotta cioè perché questo pm di milano storari che dicono sia vicino a bocassini ha sentito il bisogno di portare un verbale di questo amara a davigo a roma dicendo che il procuratore greco poteva non volere infastidire alcune persone citate da amara ma poi dico un magistrato non ha l'obbligatorietà dell'azione penale cioè può decidere se se approfondire una vicenda oppure no sulla base diciamo di un'interpretazione molto arbitraria come funziona francesco e allora è una è una una questione molto delicata che andrebbe affrontato con i documenti quindi parliamo di una cosa di una vicenda che conosciamo attraverso la stampa e rispetto a questo quindi voglio essere nei giudizi prudente per non incorrere lo stesso errore per esempio da alcuni miei ex colleghi come nordio violante altri che hanno espresso giudizi sulla vicenda del libro senza conoscere il contenuto del libro quindi io parlerò di un processo senza conoscere parte un processo e sulla base di quello che viene fuori intanto voglio subito precisare una cosa distinguiamo e tu hai fatto bene a dire eh tra procure eh le istituzioni io ho sempre mantenuto e ho detto che le istituzioni non sbagliano sono gli uomini che rappresentano le istituzioni che sbagliano quindi anche in questa vicenda se c'è uno scontro non è uno scontro fra fra procure ma tra magistrati che sono appartenenti a uffici giudiziari diversi premesso questo questo punto di come di osservazione è chiaro che vige in italia il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale è chiaro che in questi ultimi anni le procure sono diventate eh a gestione accentrata quindi gerarchizzate per cui ha il procuratore della repubblica eh ha alla fine l'ultima parola su tutti ma però se io dissento io sostituto dissento da una certa linea posso formalizzare il mio dissenso e ci sono una serie di meccanismi di di tutela che passano anche attraverso il consiglio superiore della magistratura nel caso di specie c'è un 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 pubblico ministero che non sappiamo se non ha già informato del suo dissenso il procuratore della repubblica e quindi rispetto a questa cosa avere consumato i passaggi che che avrebbe dovuto consumare e poi nello stesso tempo si è premurato di eh dare a un consigliere eh superiore dei verbali per segnalare questa vicenda evidentemente questo passaggio non è un passaggio eh rituale quello al al consigliere a Davigo e e come non sono rituali altri passaggi di che di di Davigo che ehm chiaramente informa come come deve fare il presidente del consiglio e chiaramente sembra che abbia avuto anche un colloquio non si sa se sull'iniziativa del ministro della giustizia o su sua iniziativa rispetto a questa vicenda però quello che sembra che non ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono i contatti ma non ci sono i passaggi formali su questi su questi contatti evidentemente ogni dichiarazione anche quando le dichiarazioni come quelle di Amara sono le dichiarazioni che partono dall'auto accusa ed estendono l'accusa agli altri perché Amara è chiaro che in questa vicenda si accusa per esempio di aver fatto parte di un'associazione segreta e chiama in causa anche altre persone tutte le dichiarazioni anche quelle che sono con l'auto accusa è chiaro che vanno verificate e riscontrate io da quello che sento ci sono delle attività di verifiche non credo e mi mi sembrerebbe grave che questa attività di verifica fosse limitata solamente alla fuga di notizie e non fosse invece limitata alla fondatezza o meno delle affermazioni di una persona che comunque sono delle 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 attività delle informazioni che vengono da un soggetto privato che il soggetto pubblico e la magistratura ha il dovere di approfondire e verificare nella sua fondatezza perché altrimenti se se ognuno potesse con una semplice dichiarazione con la sua singola testimonianza non riscontrata travolgere il sistema questo credo che non fa parte di uno stato di diritto in cui è necessario che tutto sia soggetto a un controllo di legalità. Su questo siamo d'accordo l'importante è non fare come diceva Calamandrei cioè con gli amici si interpreta la legge e con i nemici si applica perché abbiamo l'impressione che quando quando diciamo qualche forza politica che non risponde ai soliti centri di potere o che magari mette in piedi delle misure che non sono funzionali al nucleo duro diciamo di quelli che controllano il potere profondo si scatenano il solito procure i soliti giornali quando invece alcune notizie vengono fuori con riferimento ai padroni del vapore insomma il garantismo abbonda ecco ma questa è un'impressione nostra è un'impressione giusta sai qual è il problema Francesco un problema intanto non vogliamo risolvere il primo problema è di semplice soluzione come facciamo a rescindere il rapporto tra associazione e consiglio superiore magistratura intanto se un'associazione come l'ANM svolge delle attività di cui i suoi rappresentanti svolgono le attività che sono al di là della legge quell'associazione va sciolta il legislatore si dovrebbe porre il problema di che significato a avere un'associazione con più correnti e con più partiti all'interno ci parlava da anni di parlamentino e il parlamentino fa riferimento proprio all'attività politica quindi il primo problema è questo eliminare uno strumento con cui si è deviata all'amministrazione e la gestione dei direttivi e di altri poi l'altro problema è eliminare il ruolo che esercino le correnti nel momento stesso in cui nelle elezioni vengono eletti i componenti del consiglio superiore magistratura i magistrati una volta che vengono che vengono fatti controlli di progressione hanno tutti pare dignità e pare capacità non riesco a capire perché non possono essere i consiglieri sorteggiati perché già il sorteggio quantomeno i sorteggiati candidati perché quantomeno il sorteggio elimina il potere delle correnti e di alcune persone elimina la possibilità del delle intromissioni della della politica e questo è uno dei problemi fondamentali ma l'altro noto da sciogliere è quello dei procedimenti che riguardano i magistrati perché una volta c'erano le competenze incrociate per cui messina messina giudicava reggio i magistrati messina giudicavano i magistrati di reggio i magistrati di reggio giudicavano i magistrati di messina e questo evidentemente non era funzionale agli interessi della giustizia ma oggi anche se ci sono queste non ci sono più le competenze incrociate nel momento stesso in cui il quasi ama il magistrato che ha operato a roma può andare a fare l'inquisitore nella procura che è competente sui magistrati di roma tutto questo crea problemi allora rispetto a questo capisca non si possono creare delle magistrature speciali però bisognerebbe creare un meccanismo a rotazione che eviti che si consolidano queste forme di potere cioè caltanissetta che esercita che esercita le sue funzioni sui procedimenti che riguardano i magistrati di palermo o perugia sui magistrati di roma e poi magistrati di palermo che vanno alla procura di caltanissetta o magistrati roma che vanno alla procura di perugia qualcosa evidentemente non funziona ti faccio un'ultima domanda angelo e poi ci salutiamo torniamo da dove siamo partiti alla denuncia depositata all'aia che tempi ci dobbiamo aspettare per una prima pronuncia i tempi non ci sono dei tempi proceduralizzati quindi non ci sono dei tempi previsti entro cui dare le risposte noi ci auguriamo che data l'emergenza che stanno che sta vivendo il nostro paese altri paesi che hanno sollevato la violazione quindi hanno sollevato un'emergenza democratica perché queste 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 denunce rimettono ad una corte internazionale il problema dell'emergenza democratica dovrebbero essere dei tempi e che fossero adeguati rispetto alle aspettative di di tante persone voi avete denunciato il governo di mario draghi o anche quello prima di conte ecco avevamo già denunciato anche quello prima di conte con la denuncia precedente e quindi questo riguarda il governo draghi si questo riguarda esplicitamente il governo draghi e il e ancora una volta il il ministro il ministro speranza e chi di speranza vive di sperato muore bene quindi l'avete denunciato all'aia e si spera che prima o poi qualcuno prende in mano questa noi noi non ci fermeremo no questo l'abbiamo capito che siete perché comunque per comunque carta canta le le carte mi dicevo un vecchio magistrato le carte non se le può mangiare nessuno quello che è scritto a leggersi o prima o poi ci sarà qualcuno che dovrà leggere quello che sta succedendo e dovrà dire se c'erano se non c'erano gli estremi per le denunce e quindi la fondatezza delle stesse però non si fermano neanche gli altri angelo e sai che qualcuno diceva che una bugia ripetuta all'infinito diventa verità ma per questo è importante il ruolo che noi dobbiamo esercitare per questo è importante dare ali alla pubblica informazione e per te questo è necessario tenere a distanza e indicare come farò nelle prossime ore i mezzi di informazione che don poco di tempo a questa parte i liberi informatori che don poco di tempo a questa parte vi danno qualche perplessità anche per mettere sul chi vive le persone che ci ascolto grazie ad angelo giorgiani grazie a te francesco grazie all'ospitalità per amici di visione tv si conclude qui questo nostro nuovo approfondimento io come al solito sono costretto a chiedere il vostro sostegno e il vostro aiuto per continuare in questa opera di divulgazione libera come sapete noi viviamo soltanto grazie all'aiuto che ci viene offerto da chi vuole mantenere in vita questo progetto editoriale ci potete aiutare tramite bonifico paypal ai numeri che la regia appena mandato in sopra in pressione oppure se vi va di costruire con noi un nucleo duro e solido abbonatevi sul nostro sito www.visionetv.it grazie alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.